I film più importanti sulla guerra partigiana sono stati girati nell'immediato dopoguerra. Roma città aperta, il film di Rossellini, forse il film più importante sulla resistenza, fu addirittura girato durante la guerra, subito dopo la liberazione di Roma. Dopo la stagione del neorealismo, invece, il nostro cinema ha ampiamente trascurato la resistenza, con alcune notevolissime eccezioni. Forse è per questo che invece nella mia memoria è ben saldo il ricordo di due film della mia infanzia, che poi ho rivisto, come tutti, credo, innumerevoli volte. I due marescialli del 1961 di Bruno Corbucci e i due colonnelli del 1963 di Steno, entrambi con protagonista Totò, il primo anche con Vittorio De Sica. Sono film che conosciamo tutti e dei quali mi ha sempre colpito la narrazione dell'8 settembre, cioè del momento della nostra storia, un momento sofferto e molto controverso, in cui tanti uomini e tante donne decisero di opporsi alla dittatura e agli invasori tedeschi, non solo militari ed eroi, ma uomini normali, addirittura un ladro, come è il protagonista dei due marescialli, o un militare volta gabbana, come quello dei due colonnelli, impersonati entrambi da Totò. Forse è questa la ragione per cui sono particolarmente affezionato a questi film, perché raccontano un pezzo importante della nostra storia, ma forse anche dicono la ragione per cui, dopo quel momento di ribellione collettiva, in tanti hanno preferito, e preferiscono, non parlare più di fascismo e antifascismo. L'amnistia dopo la liberazione cancellò le ragioni e i torti della guerra civile, molti fascisti conservarono il ruolo pubblico che avevano prima della liberazione, anche negli apparati dello Stato repubblicano, e così, alla fine dei due marescialli, anche Totò, diventato eroe durante il film, torna a essere quello di prima, un ladro. Buon 25 aprile, festa della resistenza e della liberazione.